Ciao a tutti, molte sono le domande che mi avete inviato nella rubrica Scrivi a Gallera. Oggi approfondiamo il tema della Lombardia sempre più connessa. La Lombardia, per rimanere alla locomotiva d'Italia e uno dei motori d'Europa, deve essere una regione sempre più connessa dal punto di vista dei collegamenti ferroviari e autostradali. La nostra regione ha un grande valore, ha un sistema capillare di infrastrutture fisiche, che però devono essere ulteriormente potenziate per migliorare lo spostamento delle persone e delle merce. Ma poi è necessario anche sviluppare fortemente le infrastrutture digitali. Immagino una Lombardia sempre più smart, che favorisca la possibilità di sburocratizzare, rendendo sempre più rapide e funzionali le attività amministrative, sia dei cittadini che degli imprenditori. Io ho lavorato in questa direzione, da assessore alla sanità ho, per esempio, dematerializzato la ricetta. Si chiama il medico di medicina generale, gli si chiedono i farmaci, arriva un messaggio sul proprio cellulare e si va a ritirarli direttamente in farmacia. Questo è quello che ho fatto, questo è quello che voglio fare.